Novi Zabieric, allora 2-7 a senso unico con Cuneo assoluto, padrone del campo. Per voi l'ingresso di Orsting ha cambiato qualcosa, poi è scattato qualcosa nel gioco, nella testa e un grandissimo quinto set giocato punto a punto. Io ho la sensazione che, vabbè, è inutile ripeterlo, Cuneo ha vinto tutto quest'anno e secondo me è nettamente loro e Trento la squadra più forte. Però magari ci ha aiutato anche questo ingresso nostro in partita, un po' così, che magari loro pensavano di chiudere facile, già stavano pensando magari a mercoledì a Coppa Campioni. Invece noi siamo una squadra che cresce, che deve sfruttare ogni situazione, ogni debolezza dell'avversario e siamo stati bravi a crederci e alla fine portiamo due punti pesanti che secondo me non porteranno tante squadre a Cuneo. Beh, complimenti comunque anche alla tua squadra perché anche tecnicamente è molto cresciuta nel corso del match. Sì, sì, sicuramente abbiamo iniziato male, magari anche un po' intimiditi qua da loro, visto che giocano veramente bene. Però noi contro queste squadre forti, cioè Trento, Cuneo, bisogna che crediamo, giochiamo punto per punto e dopo se loro fanno il suo miglior livello non c'è poco da fare. Però se si abbassano solo un pochino, noi siamo là e diamo fastidio a tutti, no? Tra l'altro se andate un po' indietro nel tempo, già al Palaverde era successa la stessa cosa. Sì, sì, anche al Palaverde, però diciamo là non giocavo a Vute, hanno fatto, l'allenatore ha fatto un turnover, noi siamo stati all'inizio, dopo questo è un importante, cioè per noi perché abbiamo avuto tanti problemi. Palleggiatore Pidolare ha smesso di giocare, complimenti anche a Bonifante che ha dimostrato come un grande palleggiatore.